A mai una bandiera a Torino, alla presenza dell'onorevole Marazza, del sindaco Peyron e dell'onorevole Giacchero, si è chiusa la mostra storica ordinata a Palazzo Carignano in occasione delle celebrazioni di Italia 61. Ad un segnale del sindaco, la corrente d'aria che fa sventolare le bandiere viene interrotta. I sei drappi ricadono lungo i pennoni e vengono ammainati dai vigili della mostra. Anche le bandiere dell'Accademia Militare di Torino, della Scuola Militare di Modena e del battaglione studentesco Pisano, Curtatone e Montanara tornano ai loro reparti.